Ma come l'ho scoperto, ti ho seguito a quella festa, ah ah, tu mi avevi detto, stai tranquillo che ti chiamo io, ah ah. L'ho chiamato io, mi hai detto ma che noia, ma che noia, io lo so che in certe cose c'è l'amica che ti copre e l'amico che ti scopre. Ma come ti permetti, è l'amico Giorgio, ah ah, è l'amico Giorgio, ma chi è l'amico Giorgio, ah ah, è un collega di lavoro, scusa se non te l'ho detto, e ci credo, te lo porti a letto, mi sposto lì, intanto ci rifletto, ah ah. Mi metto là, ad aspettare che mi passa un po', ritorno qui, intanto ci rifletto, ah ah. Adesso che ci penso, ogni tanto mi hai chiamato Giorgio, ah ah, e tu che ci pensavi, stavi attenta a non chiamarmi Giorgio, ah ah. Ma come ti permetti, è l'amico Giorgio, ah ah, è l'amico Giorgio, ma chi è l'amico Giorgio, ah ah. E' un collega di lavoro, scusa se non te l'ho detto, e ci credo, te lo porti a letto. Sarà ancora qua, darà aspettare che mi passa, ah ah, mi sposto lì. da aspettare che mi passa, ah ah, ti preparavi uscivi, io che dicevo amore, vai piano, ma quale piano piano, tu non vedevi l'ora, accento all'ora, io lo so che in certe cose c'è l'amica che ti copre, è l'amico che ti scopre, tu che insisti col collega, io mi sforzo e non ci credo, al collega, al collega Giorgio, ancora qua, da aspettare che mi passa, ah ah ah, mi sposto là, da aspettare che mi passa, ah ah, e se non passa, ho conosciuto un altro amico, ah ah ah, chi si chiama Giorgio, chi si chiama Giorgio. Ciao ragazzi, sono Giorgio, ricordatevi che Giorgio è nascosto ovunque, basta scoparlo, è l'amico Giorgio.